La Fondazione Cassa di Risparmio è uno sponsor da tanti anni di questa iniziativa che corrisponde a diverse vocazioni dell'attività della Fondazione stessa. La Fondazione crede, come è evidente a tutti nell'ambito della città di Modena, nel recupero del patrimonio storico, del patrimonio museale, del patrimonio artistico della città per tutte le iniziative che ha sponsorizzato e che qui vedono dei temi nella riqualificazione appunto del costruito. Inoltre la Fondazione crede nella formazione continua e nella formazione giovanile, nella proposizione di nuove professionalità e nell'aggiornamento e nel miglioramento della formazione di coloro che già sono nel mondo del lavoro. Quindi coniugando insieme questi due aspetti salienti, se a questi ci vogliamo limitare, certamente questa iniziativa rientra nella vocazione, nello scopo di attività della Fondazione Cassa di Risparmio.